Il 22 maggio è dedicato all'open day, open day che tradizionalmente si tiene all'interno dell'istituto, ma a causa appunto del covid è stato necessario riformulare l'open day. Quindi sabato 22 maggio ci sarà la possibilità di sentire la musica dal vivo in quattro luoghi della città, punti quali pescheria, il centro di arti visive, la chiesa dell'Annunziata, il cortile di Palazzo Mazzola Rimosca. E contemporaneamente ci sarà anche la possibilità di assistere a dei concerti in streaming registrati degli studenti del conservatorio grazie ad un maxischermo che è stato posizionato in Piazza del Popolo. Quindi si offre questa doppia possibilità, musica dal vivo e musica registrata. Ovviamente la musica registrata dà la possibilità di vedere l'interno del conservatorio. Generalmente sono appunto i futuri studenti, gli interessati che entrano nell'istituto, però in questo caso non era assolutamente possibile. E poi ci sarà un grande concerto finale in streaming in diretta, in questo caso alle 19.30, che sarà possibile vedere sia sui canali social del conservatorio sia su Rossini TV. E sarà anche il momento in cui due allievi del corso di direzione d'orchestra porteranno a termine il loro percorso formativo. La conclusione è proprio con il conseguimento del titolo del diploma accademico di secondo livello. In questa occasione la form, l'orchestra regionale delle Marche, sarà diretta appunto da due allievi. In programma, oltre a Wagner, è importante segnalare una prima esecuzione assoluta di un allievo recentemente diplomato, Shiva Mukherjee, di una sua opera, Jeanne. Ci sarà la possibilità di ascoltare proprio alcuni estratti da quest'opera. Quindi un'occasione anche importante, poiché si vedranno nel corso della giornata gli studenti appartenenti poi ai diversi corsi del conservatorio. Inoltre ci sarà l'occasione di poter prendere informazioni attraverso due punti informativi in presenza, ma anche online, iscrivendosi ad incontri che sono già stati fissati per domani, semplicemente inviando una mail. E tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina dedicata all'open day sul sito del conservatorio. www.conservatoriorossini.it